Allora, il tema vero dell'intervento, lo avete sicuramente rispettito, dell'Infestival era un po' più generico su un anno stampato, però qui vorremmo proprio parlare dell'importanza di valutare quelle che sono le tematiche della trial, del test in particolare del GDPR, legate alla fine di noi, perché facendo da un po' di tempo consulente anche su questo aspetto ci siamo accorti di come in realtà molto spesso, stranamente, giusto la pericolosità che Max può avere nella gestione dei dati, stranamente sia stato dimenticato in molte aziende dagli audit e quindi vorremmo cercare di puntualizzare alcuni di questi argomenti, ma prima di fare questo, anche per cercare di calibrare un po' i 40 minuti, vorrei farvi alzare la mano a coloro che sono in questa sala, ma che si sentono più vicini, diciamo, alla professione tecnica della privacy o meno del marketing, quindi chi si sente più DPO dentro, chi si ha il certificato come DPO, ce n'è qualcuno in sala? Allora, iniziamo sostanzialmente da quello che è l'elemento fondamentale del testo il GDPR, mi sentite anche là in fondo, anche se non sono più vicino? Sarvi vicino a micro? No, sì, no, avevo fatto la prova, però. Allora, il... Allora, l'elemento fondamentale che il GDPR ci chiede di considerare è certamente il concetto di accountability, bello, bellissimo, espresso in inglese, responsabilità, ma anche non basta, in italiano non è solo responsabilità, in italiano è anche qualche cosa che gli si associa, è una consapevolezza dell'importanza di quello che si sta trattando, l'importanza dei dati, dei dati personali e non solo, in fondo, dei dati personali. L'accountability, quindi, è esattamente il modo più diretto con cui il legislatore europeo chiede, anche e soprattutto a chi fa marketing, di assumere una mentalità sostanzialmente differente da quella che purtroppo, troppo spesso ha coinvolto, diciamo, le attività o ha regolato le attività di marketing prima di maggio del 2018 o forse, ahimè, ancora fino ad adesso. L'accountability, infatti, non è solo una definizione che vale una volta per tutti una sorta di mission dell'azienda, ma è qualche cosa che, per testo scritto del GDPR, chiede al titolare del trattamento di monitorare in modo continuativo che il rispetto e la consapevolezza dell'importanza dei dati siano sempre all'ordine del giorno nelle attività di marketing e che quindi questo aspetto sia verificato durante tutte le attività di trattamento. E sostanzialmente questa dinamicità impone che chi fa marketing e non solo, soprattutto il titolare, quindi il responsabile dell'azienda, chi fa la regola della gestione dei dati in azienda, dia delle regole chiare iniziali, e questo è necessario ovviamente, e poi soprattutto che dia un controllo o autorizzazione al controllo a delle figure in azienda che si devono occupare anche di questo. E questo controllo, ovviamente, ed è questa sostanzialmente la tesi che noi sosteniamo dopo aver visto davvero le dinamiche all'interno di molte aziende, questo controllo deve essere fatto certamente dal punto di vista tecnico, quindi da chi è esperto in tematiche legali, in tematiche di sicurezza informatica, ma deve essere assolutamente considerato e valutato anche da coloro che mettono in campo le attività di marketing, perché sono coloro che poi genereranno i famosi dati che saranno sicuramente il patrimonio dell'azienda e in qualità di patrimonio devono poter essere utilizzati e valorizzati per quello che servono e per quello che sono. L'unico modo che un'azienda ha per valutare, diciamo, le proprie attività è quello di porsi dei cosiddetti KPI, degli indicatori di performance, dei dati, dei risultati oggettivi che servono appunto per sostanzialmente valutare il processo che porta all'ottenimento del risultato finale e la qualità ovviamente del risultato finale. Quindi il processo di valutazione continuo delle attività di marketing dal punto di vista delle tematiche di privacy si dovrebbe attenere diciamo almeno a due aspetti fondamentali, da una parte le procedure e dall'altra parte quello degli strumenti, la valutazione della compliance degli strumenti utilizzati. Per quanto riguarda le procedure è chiaro che nel momento in cui un'azienda pone in essere, definisce quali sono i criteri di misurazione dei propri risultati, automaticamente riesce a comprendere come a questi risultati vuole arrivare e quali dati rappresenteranno il raggiungimento dei risultati attesi. Quindi sto cercando, ne discutevamo prima con una persona che era allo stand di Iter, stiamo parlando di attività di marketing che devono generare della conoscenza di brand, della conoscenza del marchio dove il dato personale di chi, del pubblico per cui viene pensata la pubblicità per fare appunto notorietà di un marchio, saranno decisamente pochi i dati appunto degli interlocutori, nel senso che a noi interessa in quel momento proporre un'azienda e i suoi servizi, non innescare una relazione o un dialogo con degli individui particolari. È chiaro che se invece l'oggetto della mia campagna di marketing è quello di fare la cosiddetta lead generation, cioè nuove opportunità di contatto, nuove relazioni da innescare con potenziali clienti, in questo caso so già che la valutazione del successo della mia attività sarà quella di aver ottenuto un bel database ricco di dati, ricco di informazioni che possa essere passato alla forza vendite per poter generare appunto nuove vendite o vendite più profettevoli, insomma tutti i vari obiettivi che il marketing si pone. Quindi stabilito che tipo di risultato voglio ottenere, capirò che tipo di dati dovrò generare e con quale criterio potrò andare a misurare questi dati. Torniamo al ragionamento sulla generazione di nuove opportunità commerciali, io posso decidere che mi basta sapere quante sono e quindi dire che la mia attività avrà successo se avrò generato più di 100 nominativi o posso essere più sofisticata e dire ne voglio 100 ma voglio anche che questi 100 rappresentino uno specifico tipo di pubblico che abbia una certa seniority aziendale, un'età, una collocazione geografica eccetera eccetera, cioè elementi di profilazione che renderanno i miei dati assolutamente più rischiosi dal punto di vista del GDPR. Quindi dovrò generare un modo per per esempio raccoglierli, di conservarli, trattarli che mi consenta di non violare la legge e ovviamente poter ottenere il risultato che auspico. E qui arriviamo ancora a un'altra procedura fondamentale che spesso e volentieri nel marketing viene dimenticata, l'importanza dell'applicazione del principio o comunque del modello del registro di trattamenti che l'autorità garante chiede alle aziende di compilare è che troppo spesso viene relegato ad altre funzioni aziendali. La funzione di marketing che ha la possibilità di creare quindi fare entrare dati perché attraverso le campagne si fa questo o condividere i dati con soggetti terzi che poi li lavoreranno per vendere o per fare profilazione eccetera eccetera, bene la funzione di marketing è una delle funzioni che maggiormente dovrebbe avere attenzione alla compilazione del registro di trattamenti e credetemi, non so adesso non voglio far alzare la mano a nessuno per ragioni di privacy, ma credetemi le aziende che non sanno assolutamente che il registro di trattamenti dovrebbe essere applicato anche alle operazioni di marketing, ancora ne parlavamo prima con agenzie di marketing che gestiscono per aziende il database, che non sanno assolutamente di avere anche loro a loro volta la necessità di gestire un loro registro di trattamenti per i loro dati e per i dati che ricevono in uso diciamo per essere lavorati dai loro clienti. E poi dicevamo gli strumenti, gli strumenti sono fondamentali quando noi sappiamo che stiamo dichiarando determinate cose in maniera chiara ed esaustiva in un testo di informativa, per esempio che raccogliamo consenso diciamo diviso in due o tre parti legate ad utilizzo diverso dei dati, io quelle informazioni dovrò farle confluire per esempio in un CRM o in un sistema di gestione dei nominativi che mi consenta di storicizzare il consenso ad alcune voci e il mancato consenso ad altre voci. Avrò bisogno di un sistema che sia in grado di raccogliere la cancellazione di quel consenso o l'aggiornamento di un consenso che sia già stato dato in precedenza. Avrò la necessità di avere degli strumenti integrati al CRM, per esempio gli strumenti per la costruzione di attività di email marketing o di comunicazione online. Avrò sicuramente bisogno di avere un sito internet che abbia, che adotti degli strumenti compliant, quindi parlavamo prima dei plug-in o di altri add-on che servano però a poter generare dei dati, ripeto, che siano poi utilizzabili senza correre eccessivi rischi. E infine, i tanto vituperati dal testo del GDPR, sistemi di marketing automation, cioè quei sistemi che portano a compimento procedimenti di profilazione o decisioni automatizzate in base alla presenza di dati o all'assenza di dati. Quindi sostanzialmente significa che controllare le procedure e controllare gli strumenti di base porta a fare quello che il GDPR pone come il modo virtuoso per realizzare le attività in generale e in particolare le attività di marketing. Pianificare, pianificare esattamente quello che si vuole ottenere. È già bello quando in azienda il marketing riceve le informazioni legate a degli obiettivi chiari. Devi fare una campagna di qualsiasi tipo, anche una campagna Google AdWords, che generi un certo numero di nominativi in un lasso di tempo con un determinato budget. Questo è già una cosa molto bella, sono già degli elementi molto chiari attraverso cui costruire un'attività. Ma non basta dal punto di vista del GDPR, perché naturalmente, per esempio, sotto la voce di privacy by design ci va anche quella riflessione che è fondamentale. Una volta che avrò ottenuto i miei dati dalla campagna Google, avrò fatto anche più di quello che mi viene richiesto con meno budget, perché sono bravissimo. Poi questi dati dove andranno a finire? Andrò a finire strumenti aziendali che sono stati verificati da qualcuno che è proposto dal punto di vista tecnico. Bene, non sono stati verificati perché a nessuno è venuto in mente che l'azienda sia dotata di un sistema di email marketing. Mi porrò il problema di portare all'attenzione di chi deve fare questi controlli che esiste anche un sistema di email marketing. Ma soprattutto questi dati che io ho raccolto, che magari posso anche essere sicurissimo di conservare bene in un CRM, eccetera, eccetera, andranno condivisi con qualcuno? Sì, certo, ho una rete di vendita, ho tutti i miei rivenditori che gestiranno questi nominativi per compiere la vendita, concludere la vendita. Questa informazione è fondamentale nel momento in cui pianifico l'attività perché deve finire nell'informativa, deve avere un suo consenso esplicito raccolto e devo avere un sistema che raccolga queste informazioni, che restituisca i dati in un formato standard. Questo è quello che mi chiede GDPR, questo è quello che io devo verificare prima di fare qualsiasi attività. Questo è quello che devo verificare e questo è sostanzialmente quello che ci stiamo accorgendo in tanti quando affronto una fiera. Se io vado ad una fiera come espositore e il soggetto che organizza la fiera mi promette che nel pacchetto di sponsorizzazione ci sono anche i nominativi, per esempio registrati al mio stand o addirittura i nominativi che partecipano all'intero evento, io devo essere sicuro che questo soggetto stia effettivamente raccogliendo i dati con un'informativa e una richiesta consenso che autorizzi questa cosa perché altrimenti io avrò speso i soldi della sponsorizzazione e mi ritroverò con un foglio Excel senza nessuna garanzia, senza nessuna protezione e soprattutto totalmente inutile dal punto di vista poi dell'esecuzione della parte vendita. Quindi questa privacy by design così tanto raccontata sotto tanti aspetti diversi deve diventare qualcosa davvero di operativo per chi fa marketing, operativo per chi fa marketing e che in questo modo talvolta si rende anche conto di aver bisogno di una collaborazione da parte di qualcuno che abbia una capacità, una conoscenza, una specifica professionalità tecnica quindi che si occupa di sicurezza informatica, che si occupa di sistemi informativi in generale e che troppo spesso invece finiscono per continuare a viaggiare su binari paralleli. Sinceramente quanti di voi, coloro che non hanno alzato la mano quindi fanno marketing sono sicuri che il loro responsabile della sicurezza o il loro responsibility sappiano che loro utilizzano un sistema gratuito di email marketing? La maggior parte delle aziende questa informazione la contiene e la relega esclusivamente nell'ufficio di marketing e questo è un elemento pericolosissimo dal punto di vista dell'azienda è un elemento che a partire dal titolare del trattamento fino a chi operativamente è poi responsabile della gestione dei dati deve essere noto, cioè tutto quello che viene utilizzato in azienda deve essere condiviso e scelto dall'azienda stessa, non c'è verso altrimenti qualsiasi cosa sarà nel famoso controllo che citavamo prima casuale della guardia di finanza potrà essere un elemento di vulnerabilità i sistemi di email marketing gratuiti non sono il demonio in assoluto ma bisogna essere sicuri che quello che offrono siano poi delle sicurezze, delle incertezze dal punto di vista tecnico adeguate a quelle che è la privacy policy che un'azienda si è data se un'azienda fa della privacy policy il suo fiore all'occhiello non può scivolare su questa cosa se un'azienda ha imposto la propria privacy policy sulla base del famoso e tanto utilizzato ultimamente legittimo interesse, allora sì, questo può in un certo senso far parte del calcolo del rischio che sta dietro questa decisione, calcolo il rischio, rischio da due parti, rischio mio come azienda che posso rischiare di avere dei dati che in realtà non siano proprio cristallini e utilizzabili per come immagino siano utilizzabili, rischio lato persona che mi cede i suoi dati che danno posso fare a questa persona, quindi a che cosa posso incorrere nel caso nel violare la sua privacy e ovviamente la sua libertà. Dopodiché è chiaro che il marketing si utilizza anche degli strumenti che necessitano di un'analisi anche rispetto a quelle che sono le funzionalità legate alla privacy by default pensiamo a tutte le aziende che avevano delle app costruite prima del maggio dello scorso anno e l'impostazione di base era di attivare la localizzazione, la geolocalizzazione dell'utilizzatore della app salvo che la persona escludesse questa cosa. in questo caso dopo lo scorso maggio diventa assolutamente mandatorio, obbligatorio che sia invertita l'operazione, quindi l'app nasce senza geolocalizzazione la persona per avere il massimo delle funzionalità di quell'app potrà scegliere di avere la localizzazione in modo da poter essere appunto aiutato nella ricerca di contenuti o dei fornitori o quello che serve attraverso la localizzazione. la geolocalizzazione per esempio è uno dei dati più rischiosi perché su questo la letteratura della nostra autorità garante è immensa ed è assolutamente qualche cosa che laddove compreso in sistemi particolarmente elaborati o nelle app eccetera va sicuramente, deve essere sicuramente oggetto di una valutazione di impatto e talvolta anche di una richiesta diciamo di valutazione da parte dell'autorità garante noi abbiamo lavorato con un'associazione di categoria che aveva un'app e solo all'ultimo momento prima del rilascio si è resa conto che la geolocalizzazione era proprio un momento vulnerabile, era una funzione fondamentale perché si trattava di promuovere dei punti vendita sul territorio quindi era indispensabile non va però in richiesta di garante una geolocalizzazione in quel caso il DPO siccome l'associazione aveva una policy un po' particolare da associazione diciamo così, l'associazione di categoria ha chiesto un parere al garante sulla gestione del dato successivamente alla registrazione e in particolare la durata della conferenza più che altro, no, su durata ne possiamo discutere il problema è che adesso il sistema non è più quello di una volta nel senso mi deve fallire una DPA e poi se mi fallisce la DPA allora vado dal garante esattamente quindi ha fallito il DPO, ha fallito DPA per andare dal garante e bloccare tutto per un anno è stata questa la cosa infatti, sì, lui ha dichiarato che la cosa avrebbe comportato un blocco inferiore e loro si è augurano quindi ad oggi sono ancora fermi assolutamente perché non è uscito ancora un provvedimento quindi sono fermi da maggio dell'anno scorso assolutamente, sì, sono fermi dopo dopo, ma comunque non ridere dopo di che, sì, sì, questa è stata una scelta estremamente conservativa da un punto di vista del titolare che in realtà ha più paura della sua ombra che di tutto ha a questo punto preferito fare questa scelta radicale piuttosto che correre qualsiasi tipo di rischio insomma, ognuno ha i suoi gradi di sensibilità dopodiché, elemento fondamentale ovviamente è la formazione del personale la famosa consapevolezza dell'importanza dei dati del valore dei dati prima di tutto passa dalla formazione di chi questi dati li gestisce senza anticipare anche contenuti successivi però pensiamo a una qualsiasi riunione marketing, vendite in qualsiasi azienda, ente o qualsiasi cosa che non sia un no profit vede uno scambio sragionato e sregolato di dati attraverso foglie Excel esportazioni dal CRM senza nessun tipo di cura esportazione di dati dai social network ma io questi contatti di LinkedIn ce li ho qua in un foglio Excel te li do, mandagli la newsletter e cose di questo genere non sono cose fatte senza cura sono cose fatte senza la consapevolezza di che cosa questo porti e quindi la formazione diventa fondamentale e ancora una volta la responsabilità sta nel titolare del trattamento che deve mettere cura anche in questo deve delegare a qualcuno la responsabilità di fare questa opera di formazione e di concentrazione su alcuni aspetti fondamentali quindi come dicevamo sostanzialmente misurare significa verificare le procedure verificare che gli obiettivi che le attività di marketing le singole attività di marketing gli obiettivi siano compliant con quello cioè siano adatti siano accettabili dal punto di vista della norma, del GDPR e nel caso non lo fossero valutare l'impatto, il rischio di quanto si possano discostare secondo quello che è sempre per alcuni la copertina del legittimo interesse dopodiché provare sempre l'affidabilità degli strumenti lo citavamo prima ci sono tantissimi plug-in per i cookie che dichiarano di disabilitare il tracciamento e in realtà continuano a tracciarlo ci siamo divertiti per un corso di formazione a fare anche questi test sui singoli siti dei partecipanti e purtroppo abbiamo trovato davvero anche su prodotti molto noti o delle difficoltà di installazione non sufficientemente segnalate o proprio delle funzionalità che in realtà venivano dichiarate ma non essere poi mai verificate altro elemento fondamentale è definire la profondità di quello che sarà la profilazione dei nominativi, dei dati delle informazioni che andrò a raccogliere la profilazione lo sapete bene se vi siete già occupati di GDPR se no ve lo confermo è uno degli elementi fondamentalmente su cui il GDPR insiste perché la profilazione che cosa comporta? La profilazione comporta una conoscenza talvolta anche ridondante di informazioni sui singoli ridondante nel senso che va magari oltre quella che è la normale finalità dichiarata per una raccolta dati e in più la profilazione consente di immaginare di poter anticipare le scelte dei nostri interlocutori anticipare le scelte per il garante equivale a limitare le libertà e da questo punto di vista una persona qua in sala prima mi chiedeva a proposito di sanzioni già esistenti le sanzioni più facilmente riconducibili a questo aspetto sono quelle legate sempre ancora una volta agli e-commerce che tracciano per loro natura le informazioni dei visitatori dei naviganti delle pagine del sito al fine di di solite cose di conoscere quali sono i prodotti più graditi l'abbandono dei carrelli eccetera eccetera queste informazioni chiaramente vanno a essere utilizzate per proporre a queste persone dei contenuti specifici che noi ci immaginiamo essere quelli maggiormente per loro interessanti questo immaginiamo può essere considerato da due punti di vista nella migliore delle accezioni voglio fornire il miglior servizio quindi se una persona guarda continuamente cartucce di stampa di un sito e-commerce di prodotti per ufficio probabilmente è interessato anche le risme di carta ok? questa è una cosa un esempio molto banale ma se la persona fosse interessato sì magari anche le risme di carta ma anche i prodotti per la pulizia bene i prodotti per la pulizia a me non viene in mente di proporgirli perché lui da me cerca sempre apparentemente solo delle cartucce quindi questo aspetto del non far vedere per esempio delle offerte sui prodotti per la pulizia a ufficio rappresenta per il garante la violazione di una diciamo trasparenza di quelle che sono le opportunità commerciali e questo è ancora sul lato molto banale ma pensiamo a quello che può succedere in un ambito di un recruitment o di cose più a contenuto più elevato quindi anticipare i desideri del mio interlocutore dovrebbe essere chiaro l'elemento dal punto di vista aziendale della customer satisfaction o comunque di un servizio al cliente ma rappresentano inevitabilmente anche la legazione di informazioni che potrebbero comunque essere interessanti per il mio interlocutore infine se io so quello che devo misurare per valutare il successo di un'operazione di un'operazione di marketing e quindi come voglio arrivare ai risultati avrò automaticamente generata la lista delle informazioni che io devo inserire nel documento di informativa privacy quindi avrò esattamente le informazioni per quel documento capitolo per capitolo e avrò le necessarie domande da far accettare nell'ambito del modulo di consenso collegato a quella informativa sia che si tratti di un'attività digitale sia che si tratti di un'attività tradizionale fatta in eventi pubblicità cartacea eccetera quindi il marketing dicevamo è in assoluto una delle funzioni aziendali più pericolose perché genera un ingresso di dati in azienda non controllato perché l'ufficio di gestione del personale ha tanti dati personali a volte anche sensibili però sono dati di collaboratori sono dati di persone che comunque hanno un certo tipo di rapporto e talvolta sono dati che hanno una base giuridica necessaria per poter eseguire determinati contratti o rapporti di relazioni i dati di marketing no i dati di un potenziale cliente non hanno nessuna base giuridica se non il consenso esplicito della persona che ci cede i suoi dati perché ci fa una domanda perché approfitta di un contenuto che noi abbiamo reso disponibile eccetera però in sostanza l'ingresso dei dati in azienda da appunto di vista del marketing assume almeno queste tre caratteristiche da una parte la modalità spontanea sono stato bravo ho costruito dei bei contenuti le persone li hanno trovati interessanti tanto da lasciarmi i loro dati in modo che io li possa poi ricontattare o dare quello che loro stanno richiedendo un ebook una versione demo di un software eccetera eccetera e quindi su questo non c'è non c'è problema se io ho fatto le cose bene una buona informativa un modulo consenso assolutamente rigoroso la possibilità di chiedere sempre di sapere a chi chiedere le informazioni sui propri dati eccetera eccetera io su quei dati sono in una botte di ferro posso continuare ad utilizzarli fino al rifiuto del consenso stesso sulle modalità seconda e terza e invece qui le cose diventano un po' più spinose perché in questo caso una persona di marketing può avere la massima sensibilità e accuratezza nella gestione e nella raccolta dei dati ma ci potrebbero essere comunque delle informazioni tecniche che gli potrebbero sfuggire quindi quando si tratta per esempio di analizzare attraverso le analytics di qualsiasi tipo non solo google ma anche le analytics dei siti dei social o di altri strumenti come l'email marketing eccetera io come marketing devo sapere fin dove mi posso spingere che cosa devo dire al mio potenziale cliente come lo devo informare che io questi sistemi di tracciamento effettivamente li ho in essere e che da essi posso trarre delle informazioni sulla loro attività anche nel momento in cui decidano di non lasciarmi i loro dati terzo elemento è la modalità esplodativa quando è l'azienda che cerca le informazioni sui propri potenziali clienti quando è il commerciale che cerca le informazioni sul suo prossimo cliente quando è la tenda che cerca delle informazioni di mercato magari anche statistiche ma che poi necessariamente dalla statistica scendono ad un dettaglio sicuramente maggiore e quindi sostanzialmente quello che io mi porto avanti in queste tre modalità di raccolta delle informazioni che informazioni ripeto che dovrebbero finire comunque dal punto di vista di quello che ci chiede il GDPR strumenti capaci di raccogliere queste informazioni di poterle gestire nel migliore dei modi in maniera sicura e di poter garantire quella che è la cancellazione poi o il diritto all'ovlio come nominavamo negli interventi precedenti di questa sala quindi diciamo che se nella modalità spontanea quindi quando la persona cede i propri dati ripeto se le cose vengono fatte in maniera pianificata con cura e attenzione i grossi problemi non ne dovrebbero sorgere sulla seconda e terzo modo è chiaro che io vado a innescare una raccolta di informazioni che certamente mi porta ad un risultato avere più dettagli sui singoli individui che vengono in rapporto entrano in rapporto con la mia azienda e con i contenuti della mia azienda su questo è fondamentalmente impossibile negare questa cosa e automaticamente diventa fondamentale che il marketing abbia una spalla o un cervello con cui condividere questi aspetti e poter definire una procedura standard una procedura corretta una procedura che valuti appunto il rischio e valuti quanto sia impossibile o lecito correre questo rischio o quanto invece non ne valga la pena una volta che i dati sono entrati in azienda e sono patrimonio diciamo di un sistema al meglio di un CRM fatto apposta per rispondere alle richieste tecnologiche del GDPR questi dati vanno sicuramente condivisi e come dicevamo prima il GDPR su questo aspetto della condivisione pone anche qui un'attenzione molto forte perché è chiaro che se consideriamo che la norma nasce per voler valorizzare l'importanza dei dati personali è chiaro che nel momento in cui una persona decide di cedere i propri dati o una parte dei propri dati ad un'azienda ad un soggetto per un utilizzo specifico di una seconda o una finalità non è detto che questa cosa questa cessione di dati automaticamente sia data anche a dei soggetti per cui questa azienda deciderà con cui deciderà di condividere questi dati e in particolare ci sono degli elementi importanti che il GDPR sottolinea innanzitutto il concetto di dimensione spaziale il fatto che ci sia un regolamento europeo che tutela i diritti e valorizzi l'importanza dei dati dei cittadini europei rispetto alle operazioni che possono essere compiute all'interno del territorio europeo quindi mettendo sostanzialmente tutte le aziende in Europa facendole giocare sostanzialmente con le stesse regole e allo stesso modo mettendo nella condizione i paesi al di fuori dell'Europa di dover rispettare comunque delle misure delle norme uguali sostanzialmente per tutti questo è un elemento fondamentale un elemento molto importante che però non è solo un argomento filosofico pensiamo a quante aziende per esempio per fare attività di marketing si avvalgono di fondi per esempio di collaborazione di co-marketing con altre aziende con dei vendor importanti se io vendo monitor di un'azienda coreana e penso di fare una fiera e di avere dei contributi marketing da questa azienda coreana nella misura in cui sarò in grado di dargli una lista di nominativi che hanno chiesto informazioni sui loro monitor io devo essere sicura che questa azienda coreana abbia per esempio una gestione dei dati adatta a essere rispettosa di quello che è la richiesta del GDPR e che abbia una strumentazione tecnica software e hardware di gestione dei dati all'interno dell'Europa perché se non è così dovrò comunque informare le persone che cederanno i dati rispetto al fatto che i loro dati verranno esportati anche al di fuori della comunità europea su server per esempio coreani indicando possibilmente il rischio che questa cosa secondo la normativa europea comporta non tutti i paesi al di fuori dell'Europa hanno assolutamente lo stesso grado di rischio e pericolosità secondo il legislatore europeo dopodiché solo un breve cenno è da poco diventata diventato assolutamente da considerare anche il regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali che consiente insieme al GDPR di avere una gestione completa di quelli che sono i dati soprattutto per quelle aziende che lavorano nel cosiddetto settore dell'internet delle cose quando io ho degli oggetti intelligenti che restituiscono delle informazioni al produttore rispetto a come gli utilizzatori utilizzano quel prodotto questo per migliorare il servizio per migliorare la manutenzione la qualità del prodotto eccetera eccetera io avrò inevitabilmente dei dati che sono legati all'apparato ma anche all'uso del singolo individuo che di quell'apparato sta facendo quindi avrò un misto di dati personali a volte anche molto personali pensate all'utilizzo di una lavatrice quante informazioni possa dare rispetto ad una composizione di una famiglia le abitudini di una famiglia e il dato legato all'apparecchio funzionante queste due leggi messe insieme questi due regolamenti messi insieme compongono due pezzi importanti di un puzzle un po' più complesso che si spera verrà comunque poi arricchito da quella che sarà la nuova privacy per poter gestire in modo completo i dati digitali disponibili appunto in rete e non sono in rete dopodiché come dicevamo prima la condivisione dei dati può avvenire anche all'interno dell'azienda ma deve essere retta da una consapevolezza da una formazione del personale affinché sostanzialmente questi dati non vengano ceduti in maniera non sicura i famosi fogli Excel ma anche che i fornitori esterni di attività di marketing di telemarketing di profilazione di email marketing eccetera di gestione degli eventi abbiano cura di questi dati tanto quanto fossero interni all'azienda stessa e quindi creare una contrattualistica anche che regolamenti il fatto che questi soggetti siano comunque dei responsabili esterni o comunque che sappiano quali sono le misure da adottare nel trattamento e nella conservazione di questi dati capite bene quindi che tutte queste attività non possono essere né relegate solo ad uno sguardo tecnico quindi l'informativa scritta da un legale per le attività di marketing lasciatemi dire non sarà mai completa non sarà mai realmente corrispondente alla finalità alla modalità del trattamento e alla durata per cui questi dati verranno raccolti un'informativa scritta da una persona di marketing non sarà necessariamente mai completa dal punto di vista legale perché non ci sono le giuste competenze per esempio sulle giuste competenze e lo scontro tra un non perfetto allineamento tra il marketing e per esempio il legale o il consulente che si occupa dell'informativa è il tema della durata della conservazione il tema della durata è fondamentale su questo non c'è deroga il GDPR lo dice chiaro non c'è un per sempre non c'è un fino alla finalità dell'azienda economica dell'azienda no la durata è legata al motivo per cui ho raccolto quei dati e deve essere comunque commisurata all'importanza di quei dati commisurata a quello che quei dati e la cessione di quei dati innesca se io devo vendere una macchina a controllo numerico dove il ciclo di vendita sono 24 mesi la durata sarà 24-36 mesi se devo vendere un paio di scarpe su un e-commerce la durata potrà essere necessariamente di meno nel senso che il cliente quando vorrà darà di nuovo il consenso o darà di nuovo i propri dati direi che andiamo alle domande sostanzialmente quello che vorremmo essere riusciti a far emergere in questo in questo minuti è la necessità di una figura che completi queste mancanze queste lacune che abbiamo sottolineato cioè uno specialista privacy sì ma che conosca anche le dinamiche di marketing e che sia in grado di comprendere anche il rischio che il marketing può generare per l'azienda stessa non per bloccare le attività come è successo a maggio dello scorso anno con aziende che non hanno più mandato un'email o più telefonato a nessuno perché tale era troppo la paura del legale e il rischio di sanzioni incalcolabili ma per il fatto di avere delle attività di marketing che siano effettivamente poi fornitori di dati utilizzabili dati utili dati completi completi per cosa? Per l'esecuzione di una specifica finalità e quindi questa figura deve essere in grado di comprendere il vero significato del concetto di accountability e del calcolo del rischio quindi avere una formazione anche giuridica avere una conoscenza delle dinamiche di marketing per quello che è il controllo e la verifica delle procedure e delle competenze informatiche per fare il check up degli strumenti degli strumenti stessi e quindi sostanzialmente esiste la possibilità di certificarsi come specialisti marketing privacy per riuscire ad ottenere esattamente tutto questo grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti